ciao a tutti allora nel video di oggi non vi voglio insegnare un lavoro in particolare cioè un orecchino o un bracciale ma vi voglio insegnare una tecnica perché me l'avete chiesto in tantissimi su facebook e sto parlando della tecnica per eseguire questo bracciale adesso ho fatto una lavorazione tipo e non ho creato niente della rivista numero 4 esattamente il bracciale di Nefertiti che si esegue con la lavorazione square block cioè blocco quadrato ma non sempre si eseguono blocchi si possono fare anche delle lunghezze in terra vi faccio vedere un attimo di cosa sto parlando per chi non avesse capito comunque si trova a pagina 30 del mio chiacchierino numero 4 c'è da dire che nell'ultima rivista la numero 7 c'è anche la cara Alicia che ha fatto nella rubrica la scuola per insegnare questa tecnica però mi hanno chiesto di fare anche un video così da andare a braccetto con la spiegazione visiva allora andiamo subito con la lavorazione allora c'è da dire che io adesso farò un esempio giusto per farvi vedere come si esegue quindi non mi servirà moltissimo filo però è logico che se voi dovete andare a seguire un bracciale vi dovete tenere dalla parte dell'ago un filo abbastanza lungo quindi poi vedete voi se fate bracciale orecchino e iniziamo con la lavorazione che è più semplice di quella che si possa pensare con l'ago allora iniziamo subito e per fare questo lavoro come dice qui la spiegazione nella spiegazione c'è scritto di fare un nodo di fare un piccolo pippiolino e dopo 11 nodi ecco qui io adesso vi insegno solo questa tecnica non vi insegnerò come nella rivista fare anche i pippiolini perché quelli li sapete fare tutti per fare questa tecnica non serve neanche l'uncinetto quindi è proprio semplice allora fatto questo tiriamo fuori l'ago tirate tutto fuori dobbiamo fare il primo archetto ecco qui il primo lavoro lo sistemate adesso cosa dobbiamo fare quando siete usciti con l'ago avete tirato fuori tutto il filo girate il lavoro e fate un nodino così è già pronto per ricominciare quindi dalla parte che avete finito mettete vicino l'ago fate un nodo fate sempre un piccolo pippiolino e gli 11 nodi ok anche qui adesso il primo viene tutto storto ma non vi preoccupate tirate fuori tutto l'ago tutto quanto tutto il filo sistematevelo ecco qui allora adesso che abbiamo finito il primo pippiolino che abbiamo fatto proprio il primo dobbiamo inserire l'ago all'interno del pippiolino tirare fuori l'ago le due lavorazioni si accostano come vedete girate il lavoro e fate un nodino di chiusura se fate questa cosa che vi sto dicendo cioè se girate il lavoro quando vi dico io e fate il nodo dopo che avete girato il lavoro la vostra lavorazione risulterà bella piatta come vedete qui non farà bozzi il nodo non si noterà allora andiamo avanti avviciniamoci sempre iniziamo da dove abbiamo finito e facciamo il primo nodo un piccolo pippiolino e gli altri 11 nodi ok anche qui tiriamo fuori tutto l'ago e il filo sistematevelo se vi si attorciglia il lavoro che avete già fatto tirate tutto e anche qui dovete inserire l'ago dentro al pippiolino tirate fuori l'ago e lo sistemate girate il lavoro fate il nodino e chiudete vedete comincia a prendere forma e si ricomincia adesso ve le faccio vedere un po' così ve lo mettete bene in mente quindi un nodo un pippiolino e 11 nodi quindi uno l'abbiamo fatto altri 10 tiriamo fuori l'ago e tutto il filo sistemate ecco qui mettete l'ago all'interno del pippiolino lo tirate tutto e anche qui è fatto girate il lavoro fate un nodino e tirate vedete lo metto vicino per farvi vedere il pippiolino non serve che lo fate tanto grande perché serve solo come aggancio per unire una fascettina dall'altra vi faccio vedere l'ultimo quindi un nodo un pippiolino e 11 nodi ok tiriamo fuori il lavoro inserite dentro tirate fuori il filo in modo che le lavorazioni si accostino girate il lavoro e fate un nodino ecco qui adesso mi fermo tanto sono tutte uguali vedete come viene ok deve venire così poi è normale che in base al filo che userete cambierà per esempio qui nella lavorazione hanno usato un perlè numero 5 quindi essendo metallico ed essendo più spesso il lavoro vi rimarrà un po' meglio perché sarà un po' più rigido e avrete un effetto migliore e anche un pochino più grande quindi poi quello lo deciderete voi in base a cosa volete realizzare comunque la tecnica è questa spero questo video vi sia stato utile comunque per qualsiasi problema voi sapete che mi potete trovare sulla mia pagina facebook chiacchierina d'ago quindi per qualsiasi cosa mi scrivete lì per il momento vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao